Ciao a tutti qui su Perlupan777 e benvenuti a questa ignorante estrazione per il torneo più, dunque questi qua sono i partecipanti al torneo, vedete i nomi, ad ogni nome è associato un numero il numero 2 purtroppo si è ritirato, quindi il numero 25 che è poco e fanatico è diventato il numero 2 qui ci sono tutti i fogliatti con i numeri da estrarre, quindi estrarremo i numeri velocemente perché siamo in vacanza e quindi è un po' ostico, togliamo questa merda fare un video troppo lungo, estraiamo i numeri, li scriviamo qua, questa è la composizione del torneo chi capita a destra è inculato perché vedete, siamo soltanto 24 partecipanti quindi questa fascia che è la fascia sinistra del torneo ha una lotta in più, mentre da questa parte si salterà praticamente la semifinale, si va direttamente in finale e poi si vince la corona, eccellente quindi subito, estrai signor Jack questo è un 6 o un 9? è un 6, chiaramente un 6 6, capisci? te lo dico io, è un 6 12 12 4 4 in descrizione comunque ho trovato 17 17 23 23 24 24 24 20 10 questo è un 11 lo vedo già da sotto 11 16 16 31 dai si capiva che è un 21 1 8 5 è imparziale, è imparziale 15 15 non sa dove si trova 22 probabilmente neanche noi Come pausare i 5 minuti? 9, 10, 20, 2, 18, 19, 3, 13, 14, 7, 7! Hai visto l'ultimo, è l'ultimo! Ovviamente è tutta ladrata questa cosa, sono da Cleto se vi serve, sono da Cleto, insurcatevi! Casualmente qui c'è l'estero e qui vedete! Allora, questa qua è la composizione, spero che si legga abbastanza bene, in descrizione trovate tutto il foglio con il numero equivalente alla persona, il codice amico e le palle vari, il primo turno parte al primo agosto e dura una settimana, vi faccio vedere un attimo il torneo, come è fatto, ricordatevi contro chi siete, contattatelo su Youtube perché lascio anche il nome della persona su Youtube, in descrizione trovate tutto lì, e adesso partiamo però con le fan art della settimana! Che ci mandano due bambini di tre anni! Fai vedere i bambini! Vabbè, innanzitutto, questo l'ha fatto il bambino più grande, questo l'ha fatto il bambino più medio, no, più piccolo, che è quest'asino! E questo l'ha fatto il bambino più grande, e questo l'ho fatta il bambino più grande, votate il migliore e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!